In Siria un aereo ha ucciso quattro operatori sanitari della ONG con sede in Francia, UOSM, Unione delle Organizzazioni Siriane per il Soccorso Umanitario. Il bombardamento ha completamente distrutto un centro medico a Khan Turman, nella provincia di Aleppo, in una zona controllata dai ribelli. Nell'attacco, di cui non si conosce la paternità, sono morti anche nove miliziani che, secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, appartenevano a Jeish al-Fatah, un gruppo collegato ad Al-Qaeda. Un infermiere è rimasto ferito gravemente e il bilancio potrebbe aumentare perché altre persone potrebbero trovarsi sotto le macerie.